Attenzione Omar, guarda dove siamo arrivati, è impressionante, solo noi le prime telecamere al mondo che sono entrate dentro la rocca, guardate, sono arrivato a un bicicletta, è pericolosissimo, qui abbiamo una scala, una scala che monta su, Omar, attenzione, cerchiamo di montare la scala, attenzione, le prime telecamere al mondo che montano la scala, è pericoloso, attenzione, eccolo lì, abbiamo un abitante della zona, è un etrusco austro-ungarico, Omar, riprendi, è pericoloso, siamo gli unici al mondo a essere arrivati fino qui in cima, guardate che bellezza, Omar, riprendi, fai a modo che potresti cascare, ecco l'abitante, l'abitante della zona, attenzione, Omar, riprendi, le prime telecamere al mondo, guarda dove siamo, siamo in cima alla rocca di Ripafratta, è impressionante, le prime telecamere al mondo che entrano in queste zone, Omar, riprendi, eccola là, c'è una torretta anche là, guarda che bellezza, le prime telecamere al mondo che hanno preso la torretta, Omar, guarda che bellezza, abbiamo l'abitante della zona, zitti ora, guardatelo, è lì in cima alla rocca, Omar, riprendi, è faggestacci, è un abitante austro-ungarico quello lì, attenzione, guardate che bellezza la rocca, Omar, riprendi, le prime telecamere al mondo che hanno avuto un permesso speciale, eccolo, è il castello medevale, guardate che bellezza, di qui si vede il panorama di Ripafratta, siamo l'unici al mondo a riprendere una cosa del genere, guardate bellezza, mai nessuno è entrato in questo posto, eccolo qua, siamo dentro un castello di Ripafratta, attenzione Omar, guarda dove siamo venuti noi, siamo venuti dentro la rocca, è impressionante, salite impossibili, solo i mezzi con motore, Omar, solo i mezzi con motori riescono a salire fino qua, guardate bellezza, è un posto unico, è incantevole, eccola qui, la bestia che è riuscita a passare in questi posti impervi, guardate, è impressionante dove si riesce a passare con questi mezzi, laggiù abbiamo Omar, riprendi, abbiamo un abitante del luogo, attenzione, si è messo a buo punzone, eccolo là, e noi si scende, stiamo scendendo per la strada della rocca, siamo dentro la recinzione, Omar, guarda dove siamo, siamo in cima alla rocca, attenzione, laggiù c'è il paese di Ripafratta, guardate che bellezza, sono le prime telecamere al mondo che riescono a prendere questa rocca di Ripafratta, guarda, sono venuto qui con la mia bicicletta, ci vuole solo le bike, perché qui non ci sono altri mezzi con cui puoi poter venire, grande bike, Omar riprendila, è spettacolare, guarda dove siamo, guarda, guarda che passaggi si fanno con le bike, eccola qui, ora devo fare attenzione perché qui ci sono degli scalini, è pericoloso, ora spengo un secondo perché guardate dove va la strada, guardate qua, eccoci alla rocca di San Paolino, qui sopra Ripafratta, guardate che bellezza, ecco qui sono dei rudiri che sono vicini alla rocca, perché come vedete la rocca ormai è tutta sepolta dalla vegetazione, ciao a tutti, Omar, anche oggi abbiamo ripreso una cosa bellissima.